Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video unboxing a tema Harry Potter, ma non solo, perché mi è appena arrivato un Funko Pop che aspettavo da tanto tempo e anche una nuova uscita da Warner Bros. Che adesso vi andrò a mostrare, eccola qui, si tratta del Blu-ray 4K di IT capitolo 2, come saprete 27 anni dopo la conclusione del primo film, della prima parte della storia, si riapre di nuovo con il duello finale tra i ragazzi del Club dei Perdenti e il nostro IT. Io non l'ho ancora visto questo film, vi dirò la verità e adesso andiamo a vedere anche cosa contiene questa bellissima versione 4K, mi piacciono un sacco queste amarei di colore nero, non so perché e naturalmente poi la qualità video e audio è totalmente su un altro pianeta. E ragazzi ecco qui, questa è la confezione e all'interno abbiamo ben tre dischi, abbiamo la versione Ultra HD 4K del film, poi qui invece abbiamo il film in Blu-ray disc normale e poi abbiamo anche un terzo Blu-ray con i contenuti speciali. Quindi direi che è una gran bella edizione e ragazzi naturalmente questa qui ve la lascerò linkata sotto in info box, fatemi sapere cosa ne pensate di questa parte finale del film se vi è piaciuta. Io sono riuscito a recuperare la prima parte con grande impegno e sacrificio perché io sono stato traumatizzato da bambino dalla prima versione, quella che diedero in televisione di IT e c'è voluto un po' prima che io mi decidessi di cominciare di nuovo a riguardare questo genere di film, soprattutto IT quando uscì un paio di anni fa. Infatti io i clown non posso neanche guardarli di sfuggita perché mi inquietano da morire. Ma adesso passiamo al secondo pacchetto di questo unboxing pre-natalizio e si tratta di un Funko Pop, un pop che aspettavo da tanto tempo, l'idea mi è piaciuta subito tantissimo e che ho acquistato se non ricordo male su Amazon da Hot Deal Zone o All Your Music, non ricordo esattamente. So solo che è passato circa un mese ma l'avevo pagato proprio una stupidata, credo sotto i 10€ e quindi adesso è qui tra le mie mani e non vedo l'ora di mostrarvelo perché secondo me è una nuova serie di pop che vale la pena attenzionare. Wow ragazzi è davvero molto molto bello, la scatola già è differente dalle solite perché è un po' più satinata e poi abbiamo il numeretto qui che ha questa sorta di lavorazione foil e davanti guardate quanto è bello ha anche l'adesivo Classic Icon che è la serie dedicata a questi pop che si chiamano appunto Icons. E si tratta del MTV Moon Person, è un premio di MTV che è stato riprodotto così a Funko Pop. Io spero proprio che continuino a fare anche altri premi come ad esempio il premio Oscar o l'Emmy o il Golden Globe o la Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo di Quidditch magari. E ragazzi sarebbe davvero bellissimo avere tutti questi premi in versione pop. Questo è il primo, io l'ho preso al volo perché comunque mi piace l'idea, mi piace la scatola che è molto particolare, è costato molto poco. E poi è anche bollinato con questa dicitura Classic Icon che sinceramente non so se si tratti proprio di un negozio con questo nome o sinceramente sia un adesivo che hanno voluto mettere così per bellezza. Non ne ho idea ma fatto sta che è presente e ce lo teniamo e adesso ve lo mostro anche un po' più nel dettaglio perché secondo me ne vale assolutamente la pena. Eccolo qui, è davvero una figata, guardate, ha anche la sua basetta con il logo di MTV, guardate qui la parte superiore, l'omino è poggiato sulla M sulla TV, su MTV, sul logo del canale. Ed è davvero, secondo me, qualcosa di pazzesco. Mi piace un sacco e spero davvero vivamente che continuino a fare questi premi così da poterli esporre tutti su una mensola e potersi vantare con gli amici. Di non aver vinto mai nulla, neanche il premio per la corsa coi sacchi fatta al mare durante le vacanze estive, però ci potremmo vantare di avere tutti i migliori premi al mondo. Ma adesso passiamo al pezzo forte, so perché siete qui e perché avete aperto questo video, perché finalmente è arrivato anche il nuovo cofanetto di Running Press a tema Harry Potter e si tratta di un cofanetto dedicato alle arti oscure. Quando l'ho visto sono letteralmente impazzito, io l'ho pagato per chi fosse interessato circa 30€ su Amazon, ma al momento, ho controllato prima di registrare, si trova attorno ai 40€. Io vi consiglio sia di spucciare comunque su Amazon spesso e volentieri perché il prezzo oscilla tantissimo, trovate il link sotto in info box, ma buttate anche un occhio su Book Depository, che è un sito che vende libri e che spedisce gratis in tutto il mondo, è sempre di proprietà di Amazon, quindi in ogni caso è sempre tutto un po' collegato e lì magari forse riuscirete a risparmiare qualcosina. Andate a vedere e valutate entrambe le opzioni, cercherò di lasciarvi il link anche per Book Depository. E ragazzi, adesso abbiamo questo bel pacco che, come vi dicevo, arriva senza pagare le spedizioni. Ovviamente, essendo spedito dall'estero, può volerci parecchio tempo per arrivare. Questo qui è impiegato circa un mese, credo arrivasse addirittura dall'America. E infatti sono felice di non aver pagato dogana o cose del genere. Probabilmente hanno dichiarato in modo che io non pagassi nulla. Non ho idea di come funzionino esattamente le spese doganali quando si acquista su Amazon. Quindi su questo magari documentatevi un po' meglio. E eccolo qui, ragazzi, che figata. Guardate che bello questo cofanetto. Purtroppo ci sarà un po' di riflesso, ma guardate quanto è figo. È un cofanetto con il lucchetto qui laterale. E al suo interno, intanto già vediamo una maschera da mangiamorte. Tenete conto che della Noble Collection, una replica della maschera da mangiamorte sta attorno ai 70, 80, a volte anche 90 euro, dipende. Qui già invece la prima cosa che vediamo è una replica della maschera. È già semplicemente, secondo me, messo così, esposto in libreria. Fa la sua gran bella figura. Ma adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno, perché è molto, molto interessante. Io l'ho acquistato in primis perché c'è appunto questa maschera che volevo tantissimo e quindi ho colto l'occasione per prenderla. Vorrei tirarla fuori dalla scatola in modo da mostrarvela meglio. Eccola qui. Vediamo se è possibile sganciarla. Ecco qui la maschera. È in plastica, però sembra una buona plastica, anche molto ben rifinita. E poi, cosa inquietante, ecco che abbiamo la sagomatura della faccia all'interno della confezione dove andare poi ad incastrare la nostra mascherina, così che non si vada più a muovere. Secondo me, ragazzi, è davvero molto, molto bella. Quindi già vale i 30 euro spesi. Ma altra cosa che potrebbe interessare a moltissimi di voi è che è incluso anche questo che è una replica del diario di Tom Riddle. Sapete benissimo che il diario Noble Collection di Tom Riddle costa ben 30 euro. In questo caso è incluso. E all'interno è semplicemente un quadernino a righe, molto, molto semplice. Però troviamo anche delle frasi che vanno a richiamare quelle che abbiamo visto nel film che vengono riportate anche nei libri. Troviamo una descrizione del diario di Tom Riddle. È comunque fatto davvero molto bene. È in copertina rigida. E poi, qui sul davanti, c'è anche inciso. Tom, Marvel o Riddle? Io sono molto combattuto. Sinceramente, credo che qualitativamente questo forse sia anche più simile, più fedele a quello del film. Ma non è finita qui perché all'interno troviamo anche un piccolo foglietto con tanti adesivi tutti legati alle arti oscure. Troviamo i doni della morte, troviamo il medaglione di serpe verde, la coppa di tasso rosso, quindi tutti gli horcrux. E poi, al centro, troviamo anche un adesivo con il marchio nero. Quindi, questo qui assolutamente non lo utilizzerò. Lo lascerò dentro la scatola, però un'altra cosa in più molto carina. Ma la cosa che mi ha proprio convinto a prendere questo cofanetto è stata una. È stata la presenza di questa penna. È una penna con la forma dell'artiglio, del dente del basilisco. E, ragazzi, per avere il diario con una replica decente della zanna del basilisco, non dell'artiglio, scusate, Beh, bisogna spendere circa 100 euro e poi avrete a casa il diario di Tom Riddle in plastica, quindi proprio finto di plastica, con il dente conficcato all'interno. E io devo dire che questo è un ottimo compromesso, è magari leggermente più piccolo di quanto dovrebbe essere in realtà, però io lo trovo molto carino e sicuramente lo poggerò sopra al diario di Tom Riddle, Comunque lo metterò esposto vicino al diario. È un oggetto ufficiale Warner Bros. Wizarding World e, naturalmente, come vi dicevo, si tratta di una penna. Basta togliere la punta e poi ecco che abbiamo la penna a sfera, che io, naturalmente, non utilizzerò mai, però lo trovo molto, molto bello. Quindi, ragazzi, io, in conclusione, vi consiglio assolutamente l'acquisto di questo cofanetto e ve lo linko sotto in info box, ve lo faccio vedere meglio così all'interno. Ecco come si presenta. Abbiamo il diario da questa parte, la zanna qui incastonata, passatemi il termine nella copertina, poi neanche così bene, visto che stava per cadere. E da questa parte abbiamo la scatola che si estrae e che al suo interno ha la maschera del mangiamorte. Io, ragazzi, sono super, super soddisfatto. Ormai i cofanetti di Running Press io li prendo tutti, a prescindere, perché sono davvero delle ottime repliche. Ce ne saranno altri in uscita, ho già dato una sbirciatina, anche se non esistono ancora foto ufficiali di questi prodotti. Si parla di Hogwarts, si parla di Natale, si parla di diverse cose. Quindi, man mano che usciranno, naturalmente, io vi aggiornerò. E chissà se magari nel 2020 riuscirò a riprendere la mia rubrica delle Potter News, che vi piaceva particolarmente e che era molto impegnativa da registrare, ma spero di poterla riproporre ogni tanto. Fatemi sapere sotto nei commenti se la cosa vi piace e vi interessa. E fatemi sapere, naturalmente, se conoscevate già questo prodotto, se l'avevate acquistato, se adesso che lo avete visto lo volete anche voi. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti. E ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram, Antonio.seria, anche perché adesso con la rivoluzione di YouTube non sappiamo se questi video verranno considerati video per bambini e quindi potrebbero disattivarmi i commenti nei video e allora in quel caso mi farebbe piacere che magari dopo aver visto il mio video voi mi iscriveste magari su Instagram per farmi sapere cosa ne pensate anziché commentare sotto i video. Quindi speriamo di trovare un modo per mantenerlo in vita. Speriamo che questi video non vengano considerati realmente video per bambini perché non sono indirizzati ai bambini, lo sapete bene. Io parlo da collezionista e mi rivolgo a collezionisti di Harry Potter, quindi speriamo bene. E ragazzi, chiusa quest'altra parentesi un po' triste che magari poi approfondiremo più avanti, io vi do appuntamento prestissimo con altri video. Per Natale tendenzialmente potrà saltare qualche video, forse uno o due, ma comunque non andrò in vacanza, quindi uscirà sempre qualcosa magari in giorni un pochino diversi rispetto a quelli soliti, perché naturalmente anche io passerò le feste con le mie famiglie e quindi ci sarà un pochino di caos. Bene, detto questo, vi prometto che arriverà a breve anche il video della collezione aggiornata e quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!